il forno! non c'è fatto neanche il forno? le fuseruole? però è stato un po' veloce, non ce lo spieghi due minuti come funziona il forno cioè com'è sto forno? il forno è il refrattario, questo è tutto il refrattario, ci sono, sembra caldo, è caldo perché lo perdo stamattina le resistenze, ecco qua, però io ho il vaso lì dentro, vi faccio vedere come si carica anche i piani io adesso fa l'inverso di come deve essere, questo è l'inverso perché adesso devo far vedere che sforno, no che in forno perché quando si in forno non è cotta, è frutta, per esempio questo gufo l'ho fatto ma mi è venuto così brutto te lo devo rifà io ho il forno elettrico, tutto con il cervello elettronico, tutto molto elettronico allora quando il forno ha finito di cuocere, che è arrivato a temperatura quasi zero, apro prima si sfiata un pochino, poco poco, dopo apro e trovo le sorprese perché a volte la ceramica viene male dopo cotta stavolta sembra che merita, che la cottura ha meritato e comincio a togliere questi oggetti che ho fatto